Il leader della sinistra radicale greca Alexis Tsipras non ha dubbi e punta il dito contro il governo greco incapace di gestire con trasparenza l'inchiesta sull'omicidio del rapper Fisas che vede implicati esponenti nell'estrema destra di Alba Dorata. Il governo ha responsabilità politiche, non è una responsabilità dei giudici. E questo perché il ministro dell'interno, Dendias, e il governo non hanno consegnato al procuratore la pila di denunce che avevano contro i membri di Alba Dorata. Il ministro dell'interno aveva 32 denunce. Cosa ha aspettato di avere la 33esima denuncia per l'omicidio del rapper Fisas? Secondo Tsipras la violenza criminale di Alba Dorata non è un fenomeno nuovo. I media e il sistema politico greco, dice, hanno utilizzato Alba Dorata per contrastare la crescita del suo partito sirizza. Ora che le autorità giudiziarie stanno investigando sulle attività criminali del gruppo Alba Dorata, aspettiamo con inquietudine e con interesse di sapere i nomi degli imprenditori che in Grecia hanno finanziato questa setta neonazista.